Ciao a tutti, sono Yasin Loetzi, schiacciatore della Verovole Monza. Sono nato in Francia, a Turquen, in nord. Ho iniziato la paravolo lì a cinque anni, poi ho iniziato professionale lì, a Turquen, poi a Montpellier, dopo sono andato in Belgio, ho fatto Toulouse, Chaumont, Padova e adesso Monza. Sono matto della cucina italiana, il mio piatto preferito però è francese, si chiama il Maguette Canard, è la natra con la french fries, patatine fritte francese, tanta roba. Mi piace la musica classica tanto, sono la tromba e il pianoforte. We Love Verovole, la campagna di abbonamenti è aperta, quindi venite a seguirci alla Candia Arena. Grazie. Grazie a tutti.